Missione sicurezza. A Vicenza la vera sfida politica è bonificare le paludi del degrado. Serve un progetto contro spaccio di droga, cattonaggio, sporcizia, in centro storico e nei quartieri. Francesco Rucco pianifica il futuro e traccia un primo bilancio. Siamo ad un ottimo punto nel senso che rispetto agli obiettivi del programma elettorale e di quelle che sono le linee programmatiche di questa amministrazione comunale siamo arrivati a una soddisfazione del 75% degli obiettivi. Uno dei prossimi obiettivi che verrà raggiunto e che ci eravamo impegnati a raggiungere entro il mandato è la nuova sede di staccata della Polizia Locale. Stiamo praticamente lavorando sugli ultimi dettagli, dopodiché la apriremo con la possibilità per i cittadini di avere anche un punto di riferimento che non è tanto uno sportello di informazioni, assolutamente non è questo, ma è un punto dove dedicheremo la videosorveglianza, in particolare il lavoro dei nos e dell'antidegrado, concentrandolo in questo nuovo stabile in stretto collegamento con il comando di Polizia Locale. Insomma, si parte da Campomarzo, ma il giro di vite si è già allargato ai parchi di tutta la città, messi sotto lo stretto controllo delle telecamere di videosorveglianza. Il prossimo obiettivo da raggiungere è risolvere un altro problema segnalato dai cittadini, quello dell'accattonaggio e dei senza tetto. Stiamo rafforzando le presenze delle forze di Polizia Locale sul territorio, con pattuglie nuove, anche a piedi, e stiamo lavorando da un punto di vista sociale per il recupero di queste persone, attraverso anche il progetto Emergenza Freddo, che vedrà l'ospitalità di queste persone all'interno di strutture, di Caritas, ma anche del comune come l'albergo cittadino, dove potranno trovare riparo per l'inverno, che è il periodo più difficile. Quindi possiamo lavorare in questa direzione, con l'aiuto magari anche dello strumento del DASPO, che è quello che poi applica sulla nostra relazione la questura, e che può permettere l'allontanamento di queste persone.